Assessore Prezzossi, finalmente riaperto una strada strategica per la città come via Moccia? Finalmente, dopo un paio di mesi diciamo che abbiamo aperto all'ora di pranzo questo tratto che è comunque un tratto importante ma soprattutto per la popolazione scolastica perché comunque è il collegamento tra gli assi principali cittadini e il campus scolastico, abbiamo avuto proprio queste difficoltà dal momento in cui si sono riaperte le scuole che mancava appunto questo collegamento oggi finalmente siamo riusciti ad asfaltare e abbiamo aperto subito Ovviamente la domanda è doverosa, Assessore, come mai così in ritardo rispetto alla tabella di Moccia? Certo, questo intervento doveva terminare a fine settembre e ci sono state delle problematiche, quelle situazioni impreviste e imprevedibili che possono capitare durante i cantieri Per quanto riguarda la viabilità, questa è una zona comunque particolarmente trafficata, c'è l'autostazione, insomma c'è anche da quest'altra parte una zona che andrebbe probabilmente edificata Quali saranno i progetti e gli obiettivi prossimi? Allora, per quanto riguarda il cosiddetto parco dell'autostazione di cui fa parte anche quest'intervento, cioè la strada che dall'autostazione arriva via Umberto Nobile siamo quasi agli sgoccioli e vediamo un attimo di cercarla di aprire anche se ci sono delle problematiche E quindi in futuro cosa possiamo dire agli automobilisti e chi frequenta quest'area? E questa è una strada che... Ci può essere la svolta insomma Ma la svolta è quella di aprire finalmente questa strada e stiamo lavorando per questo